Una caserma dei vigili del fuoco, energeticamente autonoma e sostenibile, è il distaccamento di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, una sede istituita nei primi anni Ottanta che nel tempo aveva subito un fisiologico decadimento architettonico, al quale si sono aggiunte altre carenze impiantistiche e strutturali. Con la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'autorimessa si è avuto modo di realizzare la colonnina per la ricarica elettrica delle autovetture, che costituisce la prima infrastruttura di tale tipo nelle caserme dei vigili del fuoco in Italia. Alla cerimonia di inaugurazione del rinnovato distaccamento dei vigili del fuoco di Ponticelli era presente il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, che ascoltiamo. È una caserma totalmente rinnovata anche dal punto di vista tecnologico e ambientale, fondamentale per un quartiere periferico come Ponticelli e io penso che proprio da Ponticelli, dalla periferia di Napoli, possa in qualche modo ripartire una nuova Napoli. Uno degli obiettivi che vogliamo centrare è quello di elevare il ruolo del corpo e renderlo sempre più parteattiva nella progettazione del paese che cambia attraverso la transizione ecologica, la digitalizzazione e l'introduzione di nuove tecnologie e fonti energetiche. Così il sottosegretario all'interno, Carlo Sibilia. Si parte con la transizione energetica nel pubblico, quindi si parte dalle caserme dei vigili del fuoco per far vedere, far capire alla popolazione tutto il lavoro che noi abbiamo fatto su questo tema. Oggi è il pubblico, le caserme dei vigili del fuoco, che sono un inizio per tutte le altre, per un esempio per tutti gli altri corpi dello Stato e poi chiaramente bisogna anche ambire ad avere pannelli fotovoltaici, energie rinnovabili su ogni edificio anche privato.